Beh, noi siamo delle famigerate partite IVA, sai come funziona, noi non abbiamo orari lavorativi, quindi lavoriamo 24 ore su 24, e quindi io non ho mai staccato da anni che non stacco, mi sono subito 4 burnout in cui ero consapevole che avevo il burnout, però sti cazzi, che devo fare? Cioè devo continuare. E quindi sono andato avanti così, mi è venuto, sono tornato dal Vietnam, ero stanco a merda, perché poi è stato un viaggio anche abbastanza stancante, e ho detto vabbè, è fine dell'anno, non ci abbiamo niente da fare, riattacco la Playstation che ho comprato e mai usato, io avevo la Playstation 4 un anno e mezzo fa, avevo lasciato un gioco a metà da dieci anni, vabbè, e quindi ho attaccato la Playstation 5, mi sono ammazzato di videogiochi, e sono ancora in questo turbine, perché so che devo tornare a lavorare, però sto ancora giocando, e quindi non... E che hai giocato? Allora, mi sono finito tutto The Last of Us 2, Ok Poi ho iniziato a giocare Spider-Man Miles Morales, lo sono finito in un giorno, proprio così, poi ho giocato a God of War Ragnarok, l'ho finito pure quello in una settimana, mi sono ammazzato però, e mostro ho giocato a Cyberpunk. Ah, il famigerato Cyberpunk, il pangolino dei videogames. È così che lo definiscono. Eh sì, perché Cyberpunk è quello con... Che era super buggato quando è uscito. Eh sì, con Chiano Reeves, che doveva essere sto cazzo, e poi invece... Guarda che figo, no? È figo, no? Io sono molto combattuto dalla cosa, perché è il gioco proprio che sembra fatto su di me, proprio mi è cucito addosso, io sono un super ultra fan delle ambientazioni cyberpunk in generale, del questo futuro distopico, dei cavi, dei computer fatti di tastiere, proprio sono un super fan, Nirvana, tipo, l'ho amato la follia. E quindi è una figata, non mi capacito di come siano stati in grado di creare questo mondo incredibile, in cui... che sembra vivo, la città sembra estremamente viva, hanno dei particolari assurdi, eccetera. Però allo stesso tempo fa cagare il gioco. Ah. Cioè nel senso che lo sto apprezzando, perché c'è una storia della Madonna, è tutto bellissimo, curato nei dettagli, eccetera, però poi quando devi giocare, cioè prendere la pistola e sparare a qualcuno, la sensazione è quella di... Cioè non c'è gioco, sto sparando a cazzo di cane, va bene, comunque, andiamo avanti. Quindi sì, me lo sto facendo andare bene, perché... dunque, bello. Ciccio, l'ho giocato, doveva prestarmelo già come bevilacqua, che saluto, poi però è stato male e non me l'ha prestato. E quindi è finita questa avventura. Il mio rapporto con Sede è pazzo. Va bene, basta. Però no, ho visto il cartone animato. Molto bello, molto bello. Beh, mi è piaciuto da morire. Che però non c'è... Cioè l'ambientazione è quella, ma non c'entra niente. No, no, non è la stessa storia, però è quello, cioè nel senso c'ha gli stessi ruoli, di quel fascino proprio per le città fatte a quasi composte su blocchi. Questo fatto della corporazione poi mi fa impazzire, perché il fatto che non ci sia la legge, ci sono queste megacorporazioni che si fanno la guerra, possono fare quello che vogliono in città, sono loro che detengono sostanzialmente il potere. e c'è una situazione tipo molto la Kenshiro, ma futuristica. Infatti bello. Mi sa che invece di The Last of Us è uscito, forse la serie è uscita adesso. Sta uscendo o è uscita? È su Sky, la pubblica. Deve uscire? Deve uscire, sì, sì. Quando esce? Il 16. Il 16. Vabbè, quindi sarà già uscita. Una settimana. Vabbè, quando uscirà la puntata è uscita. Bella, diciamolo così. È già uscita, l'ho vista, bella. Così chi ci sente lo sa. Io, se Stefano non vuole approfondire l'argomento videogiochi, ci avrei una domanda. Sì, io ho giocato a un altro gioco, questo vuol dire, no. No, no, no. Vai, vai, no, perché... Gioca un gioco, si chiama... C'ho una domanda che c'eravamo preparati, però... Non mi ricordo. No, la faccio io, se vuoi. No, però se vuoi continuare... No, è un'informazione mia. Si vede che sono due settimane che non c'entra niente. Non c'entra niente. Ma gioco a questo gioco si chiama Pentiment. Carino. Sì. PlayStation? No, di cosa parla. Sul computer. Parla di... È tipo ambientato nel medioevo, no. Nel momento della riforma protestante. È tipo una specie di punta e clicca, ma in realtà tu sei un miniaturista che deve risolvere un omicidio. Un miniaturista? Sì, quello che fa le miniature. Ok. Che scrive tipo la C maiuscola. Fai un omicidio in miniatura? Un omicidio? No, è vero. Muore uno e tu dici... Devi interrogare un po', perché... Cioè, trovano questo... Vabbè, non lo spoilerò troppo. Però... Eh, guarda, qua stanno tutti giocando a Pentiment. È bellissimo. Stava vedendo qualcuno lo stava comprando in diretta. Stavano questo col telemano. Ah, sei stato tu. Invece questo è tipo un vecchio. Come fa a essere stato lui? E quindi devi capire chi è. E poi, in base alle tue scelte, tu mandi a morire uno. Però, cioè, devi scoprire chi è stato. Quindi, se tu scegli quello che... Era tipo il gioco di Sherlock Holmes. Lo so che c'avevi giocato. Era molto simile. Dicevi tutto... Andavi a raccogliere indizi, poi arrivavi alla fine e dovevi scegliere chi era l'assassino o comunque il colpevole. Lo mandavi al gabbio e tu non sapevi se era giusto o sbagliato. E non ti dicevano mai se era giusto o sbagliato? Ti dicevano se avevi azzeccato o no. Però avevi un sacco di scelte. Ah, certo. E poi lì è figo perché poi tu ti penti della scelta che gli fa. Questo è il senso del gioco. Perché poi dopo il gioco continua e tu dici Ah, ma quindi allora ho fatto bene o ho fatto male. E poi è figo perché tutto c'è fatto come se fossero la grafica, come se fossero effettivamente miniature e ognuno parla in un modo che riflette tipo la sua preparazione. Cioè tipo se sei un miniaturista parli con font figo, se sei un popolano con font un po' più scrauso e se sei uno che fa tipo quello che fa lo stampatore viene una cosa così stampata perché sei lo stampatore. E poi c'è la riforma e quindi tu parli con i preti e dici Ah, ma sto Lutero che è un grande e quindi in base a quello che dici poi manda tipo a rogo 1 o no per dire in base se tipo incoraggi 1 dici Ah, parlami di queste cose. Comunque sembra figo. No, è figo, è figo. È bello, è bello. Se vi capita giocateci. Pentiment queste adesso le persone a casa adesso potete vabbè se non stanno potete rientrare non vi siete spoilerati Pentiment. Tu hai giocato? Io ho giocato a Mario Kart. Ah. Sono venuti gli ospiti ho comprato ho comprato un joystick nuovo per la Switch apposta wireless con Super Mario sopra sai che c'ho quello con Link ho giocato a Mario Kart ho dominato sono sincero. Tu chi usi a Mario Kart? Io uso Donkey Kong su Scooty con i roller piccoli. Perché Donkey Kong? Allora perché è proprio una questo sono sicuro perché è una delle categorie di peso che va meglio con Scooty che è il motorino piccolo con cui mi trovo molto bene e sono lui Roy e Waluigi tutti usano Waluigi online tutti quanti usano Waluigi sia perché è un'ottima categoria peso velocità sia perché è iconico chiaramente Waluigi Waluigi è iconico è bello non è male Waluigi e fa wow io sono della scuola di Crash Bandicoot ah Crash Bandicoot cioè a CTR è un po' più violento giocare a Crash Team Racing però Crash Team Racing poi cioè passata alla Play 1 poi ci dà la versione moderna sì però che è uguale è uguale è uguale e ci giochi di no ci ho giocato così perché invece Mario Kart cioè una volta che ci entri poi dici ah eccomi qua e ti ritrovi alle due di notte con dei giapponesi a puntare al podio diciamo ma infatti a me non mi ha Crash non mi ha mai preso perché non conoscevi i personaggi cioè a parte Crash e no ma secondo me il dato che ho giocato io ho avuto l'esperienza opposta quindi io sono cresciuto con Crash e poi ho giocato un pochino a Mario Kart l'ho trovato la versione edulcorata nel senso che Crash era molto più violento Nintendo come sempre è tutto cioè era più non è violento era più in Crash ti buttavi i razzi addosso c'erano un sacco di mosse ma CTR per la Play 1 era bellissimo mi ricordo sì sì quello che è uscito adesso è esattamente identico un pochino è che adesso invece se giochi però a Mario Kart per la Switch è proprio è il futuro cioè nel senso dici a che cazzo sto giocando poi aggiornano le piste c'è un bundle di piste è molto seguito è incredibile io gioco solo a quello perché se no se comincio a giocare videogiochi poi ci gioco invece preferisco non giocarci e giocare solo a Mario Kart che ci puoi giocare mezz'ora vai là guarda io ho una nevrosi ossessivo compulsiva palese proprio e quindi quello che facevo durante l'università dato che ero andato in fissa con dei giochi era disinstallarlo in continuo e installarlo solo nel weekend e lo facevo brutta storia quanto tempo ho perso per quelle cagate per installare disinstallare e ristallare proprio per per fare questa roba perché ero un pochino cioè vabbè insomma sapevo che cioè dovevo studiare però allo stesso tempo se ce l'avevo installato io mi mentivo dicevo vabbè vi faccio una partita cazzo perdevo la giornata grazie a tutti